Oltre ai 600 concorrenti per l'undicesima edizione del campionato nazionale di corsa su strada del centro sportivo italiano tenutasi ad Agordo. Organizzazione a cura dell'atletica agordina con una settantina di società da sette regioni italiane. Il comitato CSI di Belluno ha messo in bacheca tre ori, cinque argenti e quattro bronzi individuali più un bronzo per società portato a casa dall'atletica agordina. Per il CSI Feltre rappresentato dall'atletica Lamont, il medagliere è di quattro ori, sei argenti e sei bronzi. Penso che anche l'atletica dà il suo contributo al turismo, soprattutto in questo caso io ho visto appunto anche ieri sera mi sono emozionato quando ho visto della gente che arrivava da Sondrio, da Milano e sono alloggiati nelle nostre zone e gli ho detto come vi trovate, ha detto un posto bellissimo perché ieri fortunatamente il tempo era bello, ho visto anche le montagne nostre bellissime e anche con queste manifestazioni riusciamo a tirare della gente che conosce il nostro territorio e lo apprezza e lo vede e soprattutto lo riesce a conoscere. Insomma parliamo di numeri, 600 concorrenti circa e quindi diciamo che un migliaio di persone ci stanno qui sulla piazza. Sono 630 esattamente gli atleti iscritti, poi qualcuno magari avrà rinunciato questa mattina, però è già un bel numero anche perché dobbiamo pensare, io sono sempre dell'idea che si fa fatica a tirare nei nostri posti soprattutto in alta montagna come siamo noi certi tipi di gare tipo questa. Riuscire a portare 600 atleti vuol dire che abbiamo fatto una bella cosa prima di informazione eccetera, quindi siamo contenti, entusiasti e soprattutto orgogliosi di chi è venuto ad Agordo.